Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Riazzino e voglio mostrarvi un appartamento di tre e mezzo locali situato al quarto piano di uno stabile di quattro piani in totale, per un totale di 12 appartamenti. Varchiamo la porta d'ingresso e andiamo a vedere l'appartamento più da vicino. Entriamo subito nella zona giorno, come potete vedere. Alla nostra destra troviamo, subito dopo la porta d'ingresso, troviamo uno spazio utile come sgabuzzino. Sicuramente comodo per l'appartamento e alla nostra sinistra appunto la zona giorno. La zona giorno affaccia sul balconcino esterno di circa 6 metri quadri e da questa porta cediamo la cucina abitabile. La cucina è completa di forno, piano cottura, frigorifero e congelatore. Ha la possibilità di mettere un tavolo con delle sedie, quindi completamente abitabile. Andiamo ora a vedere la zona notte. Percorriamo il corridoio e troviamo l'armadio a muro a treante. Alla nostra destra la camera matrimoniale con la finestra appunto, il pavimento in parquet. Subito accanto c'è l'altra stanza, hanno più o meno le stesse dimensioni, sono di circa 14-16 metri quadri rispettivamente. Ed in ultimo il bagno con vasca completo di lavabo e bici e bidet. Eccolo qui. E abbiamo terminato. Questo è tutto. A presto, ti affitto.